Tra la neve dell'Etna mista a fiumi di lava e il gorgogliare delle acque dell'Alcantara nelle loro gole, si nasconde il cuore medievale di Castiglione. Il quartiere Sant'Antonio è un'immagine distruggente Sicilia di un tempo, così come i vecchi coppi, i muri del centro storico su cui sembra sia caduto un velo di lava dell'Etna, le stradine ripide che portano alle fortificazioni bizantine o normanne e alle chiese che ancora regalano stupendi silenzi. La facciata barocca della Madonna della Catena grida la sua bellezza in cima alla scalinata, ma è soprattutto Bisanzio che traspare potente nelle pieghe del tempo. Nella bellissima Cuba persa in mezzo alla campagna, negli affreschi di San Nicola o nel sistema di fortificazione completato dai normanni e dagli svevi. Ripide paretini di nere rocce laviche imbrigliano le nostre vite nei canyon dell'Alcantara, in un territorio che è sintesi dei quattro elementi, la terra delle campagne, l'acqua dell'Alcantara, il fuoco del vulcano e l'aria di mezza montagna che ci fa respirare mentre lo sguardo si perde nel verde dei noccioleti e dei boschi di castagno. Risale al 1092 la prima denominazione di Castrileonis in un documento di Ruggero I. Il toponimo significa Castello Grande. Il suffisso accrescitivo aggiunto al latino medievale Castellum indica regalità, come appare anche nello stemma comunale, che comprende un castello e due leoni accovacciati. Dal 1151 al 1236 il luogo figura nei diplomi come Castellio. Nel 403 a.C., secondo gli storici locali, sarebbero stati gli esuli di Naxos a fondare il luogo, risalendo il fiume Alcantara dopo la sconfitta subita per opera di Dionisio di Siracusa. Nel 535 d.C., i greci bizantini che occuparono la Sicilia lasciarono tra le testimonianze del loro insediamento i tempietti rustici detti i cube, di cui a Castiglione c'è il più importante esempio dell'intera isola. Nel 1233 re Federico II di Sveglia concesse a Castiglione di chiamarsi Civitas Animosa, rinnovandole anche il privilegio di battere moneta. Nel 1301 Federico di Aragona, re di Sicilia, tolse il feudo a Ruggero di Lauria, ammiraglio al servizio dei sovrani aragonesi, che nella guerra dei Vespri, iniziata nel 1282, aveva contribuito a cacciare gli angioini dall'isola. Ruggero quindi cadde in disgrazia per l'appoggio dato a Giacomo d'Aragona, erede al trono di Spagna, in conflitto con il legittimo erede del regno di Sicilia, Federico III, che occupò Castiglione dopo alcuni mesi d'assedio. Nel 1373 Castiglione venne concessa in baronia a Pirrone, Gioeni. Nel 1517 Castiglione divenne marchesato, sempre come dominio della famiglia Gioeni. Nel 1602 Tommaso Gioeni venne nominato principe di Castiglione dal re di Spagna, Filippo III. Il paese si riscattò in parte dal sistema feudale nel 1612, riacquistando alcune libertà civiche e il diritto di esercitare la giurisdizione civile e penale. Nel 1636 venne costituito il peculio, ovvero un patrimonio comunale che consentisse di acquistare ingenti quantità di frumento da rivendere ai cittadini a prezzo politico in caso di carestia. Il 12 agosto 1943 si compì l'eccidio nazista con 16 vittime.